The Code 39 è il primo sito di approfondimenti geopolitici dall'Italia in lingua inglese e in arabo. Come suggerisce il prefisso telefonico italiano che abbiamo deciso di racchiudere all'interno del suo nome, l'obiettivo sarà quello di offrire ai lettori internazionali ogni giorno notizie, approfondimenti e retroscena sulla geopolitica vista dall'Italia. Voglio ringraziare Formiche per aver voluto lanciare con un evento alla Farnesina questo spazio virtuale di approfondimento ed analisi. Credo che darà un contributo fondamentale all'impostazione di politica estera dell'Italia, che si avvale da sempre di collaborazioni con riviste prestigiose come la vostra, con Think Tank e tante altre realtà come anche le nostre società pubbliche e private che ci consentono di orientare la politica estera italiana. Grazie a Decode 39 per l'iniziativa, a cui faccio i migliori auguri. Sinceramente la ritengo una cosa molto utile e di cui c'era bisogno. Tra l'altro il fatto che si pensi a un'iniziativa in lingua inglese e in lingua araba non è una cosa banale. Già questa è una sorta di carta d'identità di quello che si vuole fare e sinceramente ne abbiamo non bisogno, molto bisogno. I valori di riferimento che l'Italia pone al centro nell'esercizio di politica estera sono quelli della democrazia liberale, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, della cooperazione internazionale e del multilateralismo. Sono i principi su cui si fonda il posizionamento dell'Italia sia nell'ambito dei rapporti con i partner dell'Unione Europea e sia della Nato. Proprio in questi giorni è in corso il Summit per la democrazia convocato dal Presidente Biden e nell'intervento il Presidente Mario Draghi ieri al Summit ha confermato il capitale di autorevolezza che deriva dal nostro ancoraggio transatlantico, dalla nostra indiscussa affidabilità come alleato e abbiamo ricevuto ancora una volta un grande apprezzamento per i risultati ottenuti in ambito G20 e per la capacità che abbiamo avuto nella gestione della crisi pandemica nell'ambito dell'Unione Europea che ha portato al Next Generation EU e al piano nazionale di ripresa e resilienza che stiamo costruendo. Mettere intorno a un tavolo attori diversi con prospettive e interessi a volte contrastanti è un tratto distintivo della nostra azione internazionale. Ci permette un dialogo franco ma sempre fermo sui principi con tutti i principali attori globali. L'abbiamo sempre detto anche con Russia e Cina, siamo chiamati a rapportarci con un atteggiamento franco, con un atteggiamento pragmatico che li deve portare ad impegnarsi sui grandi temi da cui non si può prescindere, il cambiamento climatico, la soluzione delle crisi regionali, sempre però coordinandoci nell'ambito dei nostri partner del quadro, dei nostri partner europei e del G7. Dillo spartiacque drammatico è la pandemia. Ancora oggi siamo, per far affrasare un bellissimo titolo di un grande autore europeo degli anni 30 del secolo scorso, siamo ancora nelle ombre del domani. Non sappiamo con certezza quale sarà l'approdo. E tuttavia un punto possiamo affrontare oggi con certezza, se sei d'accordo. Il punto è questo. Vedete, la pandemia di per sé era una drammatica sfida nei confronti delle democrazie. Perché poteva apparire un fatto abbastanza più semplice che un'autocrazia di fronte ad una pandemia, di fronte al fatto che bisognasse intervenire su questioni di libertà individuali, le autocrazie fossero più capaci di poterla governare. Era, se ci pensate, una sfida esistenziale. Perché si trattava di diritti fondamentali come la vita, la morte, la salute. E più, diciamo, come giocare tutta questa partita dei diritti di libertà, che per una democrazia sono una cosa un pochino più delicata che per un'autocrazia. Bene, oggi siamo ancora alle ombre del domani, ma una prima fase si è conclusa. E c'è una notizia non banale. Le democrazie hanno vinto questa sfida. Non era scontato. Hanno vinto questa sfida. Perché appare evidente che se guardiamo l'orizzonte delle autocrazie, la partita lì è ancora molto più complessa. In parte, diciamoci sinceramente, in parte viene anche nascosta. Perché le democrazie hanno, diciamo, il vincolo della trasparenza. Questi paesi non hanno il vincolo della trasparenza. Non era banale che questo avvenisse. Infine l'Afghanistan, che rappresenta sempre nel grande, chiamiamolo mediterraneo allargato, uno dei pilastri sia delle lezioni da apprendere, sia dell'impegno che deve continuare in favore di quel popolo. La nostra grande preoccupazione legata al collasso dello Stato afghano legato all'assenza di un supporto finanziario è la preoccupazione principale di cui ho discusso più volte con Guterres, ma anche con Antony Blinken e tutti gli altri partner, perché non possiamo aiutare l'Afghanistan solo con l'aiuto umanitario. Dobbiamo escogitare un meccanismo attraverso le Nazioni Unite per dare un supporto finanziario allo Stato afghano senza dare soldi ai talebani. È un lavoro che noi abbiamo fatto già in altri quadranti del mondo. L'abbiamo fatto in Yemen, l'abbiamo fatto in altre realtà e dobbiamo riuscire a farlo anche in Afghanistan prima che il sistema statale collassi e avremo quindi una proliferazione del terrorismo e dei fenomeni migratori.